Amici ma soprattutto nemici piacoleri, buonasera. Ribadisco il concetto ragazzi, lo ribadisco e lo sottolineo in maniera marcata, marcata, marcata. Progetto giovane non esiste alla Guendus, non esiste. Con Allegri progetto giovane non esiste più. Questo ormai è sacrosanto, sacrosanto. Allegri, questo è considerato che rimane perché è schiavo del suo contratto. Inutile che loro parlano di progetto a lungo termine, inutile che mettono queste parole davanti all'evidenza di quest'anno. Lui quest'anno sarebbe stato esonerato con un contratto di due anni. Sarebbe stato esonerato, però non lo si può fare perché ha un contratto purtroppo, troppo lungo, troppo costoso, troppo oneroso e quindi bisogna cambiare, cambiare, cambiare. Quindi il progetto giovane non esiste più, non esiste più. Allegri è una persona, un allenatore, è una parola un pochino troppo grossa, è una figura, un involucro che non vuole allenatori e giocatori da formare. Non esiste. Questa è la sua storia. Questa è la sua storia. Non sa insegnare nulla. Non è un insegnante di calcio, non è un allenatore. Gli devi costruire una squadra che posso allenare io, che potete allenare voi. Per questo si sta puntando su Pogba, per questo si sta puntando su Di Maria, per questo si sta puntando anche su Peresici. Capitolo Peresici di Maria. Mi avete dato del... Fai due pesi, due misure, parli di età e poi vai a prendere Peresici. Peresici mi è sempre piaciuto e mi piace più di Di Maria. Questa è una mia idea personale. Mi piace. Anche perché le intenzioni di Di Maria, non che Di Maria sia scarsa attenzione, Di Maria è top, over the top. Però le intenzioni di Di Maria sono quelle di allenarsi. Di allenarsi e di andare poi fra un anno in Sud America e farsi questo mondiale. Quindi queste parole a me non mi piacciono. Non mi piacciono. Quindi stai lì, stai al partito, stai a me, trovi un'altra squadra, a me non mi piace. Ripeto, se Peresici c'è la possibilità di prendere, io a Peresici lo prendo. Perché è un giocatore formato, è un giocatore già che non ha bisogno che nessuno gli dica quello che deve fare. Però ripeto, però ripeto, il problema è sempre là. Se tu gli fai una squadra, una squadra, una squadra già formata, già che vada in campo e sappia quello che deve fare. C'è la possibilità, attenzione, non ne sto dicendo che la Juvenus su vince. No, 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 no. C'è la possibilità che si faccia una buona, una buona annata. Perché il problema allegro resterà sempre. E' accentuato in maniera, in maniera impressionante con, con il giocatore da formare. Che proprio ripeto, lui non ci riesce. Non ci riesce. Non ci riesce. Questo penso che ormai si sia capito. Anche i più duri di Comprendoni penso che questi là lo abbiano capito. Quindi la mia, purtroppo, è questa. Non può esonerarlo perché vi garantisco, vi garantisco che si sono guardati a quattro occhi. Eccan, Agnelli, si sono guardati, si sono guardati. Non lo possiamo cacciare. Perché uno di due, un contrasto di due anni l'avrebbero mandato via. Quindi si sta, si sta cercando di fare una squadra che possa andare anche senza allenatore. Perché è come se non l'avessimo quest'allenatore. Come se non l'avessimo. Perché, ripeto, quest'anno, oltre a perdere l'annata e a fare un'annata di merda, di merda, si è persa la faccia, si è persa la dignità, si è perso tutto. Tutto. Si è perso tutto. Perché lui, quando vince, è un grande. Tutto che si troneggia. Quando invece perde, ah, là, mi sembra un po' eccessivo, mi sembra banale, questo qua, tutto, si aggrappa agli specchi. Quindi si è persa la dignità. Si è persa totalmente la dignità. Per quanto mi riguarda, questo Presidente non mi rappresenta più. Nella maniera di assoluto. Ci vogliono, ci vogliono veramente tanto, tanto tempo. E tante vittorie per cercare, per riavere stima. E tanta buona volontà, neanche le vittorie, buona volontà per riavere stima in questo Presidente. Che ormai non esiste più. Non esiste più. Zero. Finito. Bruciato. Quindi, ragazzi, il progetto giovane non esiste. Non esiste. O sei formato o nulla. Hai allegri. Questa è la situazione. Ma si ci ingazzate, fino alla fine forse io.